L'ho detto con lui, ho parlato con lui, ragazzo di grandissimo spessore un esempio per i più giovani all'interno del gruppo per la professionalità e l'impegno che mette poi al di là della professionalità Uno sta arrivando Ecco, lo sono i ragazzi Due eruzioni Adesso arrivano i ragazzi della fotografia Ah, questi sono gli Sky Dweller Comunque è molto bello questo, adesso oggettivamente Ah, sì Questo è tutto d'oro Vabbè, questo di destino viene 42.900 42.900 L'ultimo dell'alta orologeria 2017 È stato votato l'orologio più figo della industria svizzera Ed è poi italiano, Bulgari Quindi è roma Innovativa come Bulgari in teoria orologi non è che va troppissimo bene Non è mai stato famoso per le meccaniche Questo è Roci Dugui, schelet 63.700 63.000 Niente Prova a votare un attimo al posto Madonna che bomba Adesso Allora per lui Questo viene 63? Sì Madonna Però ti possiamo trattare bene, dai Eccola, siamo gli unici nel centro Italia che lo vendiamo È veramente una meccanica meravigliosa Sì Guarda questo Suga Suga? Suga Suga nel senso swag Non lo so, non lo so, non lo so, Dio mio Che vita di merda Versare